Certo, però è un qualcosa che succede a diverse squadre, poi sai se ti capita di essere 4-1 fino al primo tempo e sei nel momento migliore della tua stagione allora magari sull'entusiasmo su tutto, vai avanti, continui, hai ancora più voglia di andare avanti. In questo momento qua io penso che i ragazzi durante la settimana abbiano speso tanto dal punto di vista energetico, mentale perché sentivano molto la partita, sentivano molto il momento e quindi logicamente ti trovi a fine primo tempo 4-1 in vantaggio inizia anche benino il secondo tempo perché negli spogliatoi la mia richiesta è stata questa quindi sono entrati in campo subito, hanno fatto i primi 5 minuti così anche abbastanza bene e poi dopo magari incominci a fare la corsetta in meno, magari reputi un pallone meno importante di un altro e quindi inconsciamente un po' subisci la fatica. Questo è successo, fortunatamente non abbiamo preso comunque gol e quindi va bene anche se sono state delle occasioni per loro, però abbiamo avuto anche noi due o tre occasioni per farne un altro quindi diciamo che bene o male la partita è andata, anche se io dal mio punto di vista non posso esserne contento ad accettare questa cosa qui ma vorrei che loro continuassero ad andare avanti continuassero a lottare su ogni pallone anche per avere una mentalità di un certo tipo. Lei è convinto però che il primo tempo del Brescia sia stato indipendente della supervolità cioè che sia stata la scintilla che si aspettava ancora a sbloccare la squadra e che non ce la contavano ma anche in 11.11 sarebbe stata in questa maniera per il Brescia? Io ero molto fiducioso ma ero molto fiducioso e fortunatamente magari alcune cose le ho dette anche prima se no sarebbe troppo facile poi dire bene quando vinci 4-1. Io ho detto che nelle partite precedenti comunque avevamo perso delle partite in maniera immeritata e che quindi i risultati negativi avevano condizionato sia la valutazione delle prestazioni che l'aspetto mentale dei giocatori e logicamente di tutto l'ambiente. Quindi ero sicuro che i ragazzi potessero fare una buona partita ma soprattutto che mettessero in campo insomma un qualcosa di importante dal punto di vista energetico. Non è provato a pensare dopo una partita del genere di dover andare a parte un'altra perché è così importante avere un giorno per preparare la fissura e il valore di un'altra parte però lo cosa cominciare a sbloccare il prossimo minuti? Cioè queste organizzazioni di queste partite così rafficinate senza tenere conto un po' delle logicistiche sono un po' per un'altra parte? Sì no sai sui giocatori evoluti, quelli che sono abituati a giocare anche le coppe, le cose tutto è un discorso, magari su squadre diverse ci può essere qualche difficoltà in più. È normale che dopo un momento un po' delicato, una settimana molto dura dal punto di vista appunto dell'adrenalina e del carico di responsabilità, vince una partita del genere sarebbe stato bello poter avere la settimana tipo per potersi preparare al meglio per la gara successiva. In realtà ieri logicamente c'è stato il recupero perché aveva giocato, gli altri hanno fatto un allenamento oggi ci sarà un allenamento che ancora non potrà essere interpretato sicuramente al 100% proprio perché domani c'è già un'altra gara e quindi soprattutto una gara molto difficile contro un avversario fortissimo costruito per andare in Serie A e quindi logicamente sarà una partita molto difficile però allo stesso tempo io penso che le partite difficili siano quelle belle da giocare. In virtù di quello che ha detto nella valutazione delle gare, ha valutato forse più le cose positive magari in una gara seppur persa. Anche in questo caso, nonostante il risultato sia stato così eclatante, forse, l'ha riconosciuto anche lei, non le è piaciuto tutto di quello che ha detto i suoi giocatori. La cosa che le è piaciuta di meno è il fatto che si siano abbassati. Ma sì, è sempre un po' quello il problema. Il problema è un problema di sicurezza e del fatto di pensare in alcuni momenti della partita che abbassandosi si rischi di meno. In realtà anche l'altro giorno abbiamo preso un gol a squadra schierata partendo da una punizione nel loro metà campo. Un gol che se lo rivedi è assurdo, nel senso che non puoi prendere un gol così. Però sappiamo che questi sono dei difetti esistenti sui quali noi continuiamo a battagliare, a lavorare, a ripetere, a fare. Ogni squadra ha un punto debole, il nostro punto debole potrebbe essere questo. Ma noi dobbiamo continuare a lavorarci e lo continueremo a fare fino a che non si riuscirà a limare il più possibile questo problema che poi viene dato come demerito logicamente sempre magari ai difensori, quando in realtà magari si inizia dall'alto, dagli attaccanti, per passare ai centrocampisti per poi arrivare ai difensori. Quindi è una lettura di squadra questa, perché quando prende i gol a squadra schierata le colpe sono un po' di tutti e non solo dei difensori. Le chiedo questo difetto, questa lacuna. Lei ha spiegato ai giocatori sempre nello stesso modo? O magari ci si può arrivare alla soluzione? Ci abbiamo provato in tutti i modi, ci abbiamo provato a farglielo vedere in maniera reale in campo, a fargli rivedere le partite perché a costruirgli delle esercitazioni di un certo tipo e quindi logicamente probabilmente è che in alcuni momenti della partita basta il fatto di mollare anche solo in un momento, una volta per stanchezza, una volta perché si è appena concluso un'azione, una volta perché magari la mancanza di lucidità da parte di un giocatore o due, poi ti succede di andare in difficoltà. E quindi questo sì. Ha bloccato il solito Caracciolo, poi però ha segnato tutti i debati, un esterno, un centrale, un centrocampista e tutti ci hanno provato a segnare. Sì, ma questo è quello che io chiedo sempre, poi dopo ci sono delle volte dove non è successo perché comunque secondo me ci sono dei giocatori che hanno il compito di fare gol e Caracciolo ha il compito di fare gol e siccome lui pensa giustamente nel suo ruolo a quello che è il suo compito, ovvero quello di segnare, altri devono pensare ad altro e hanno meno possibilità rispetto a lui. Sono contento che abbia fatto gol Coli perché non aveva mai fatto gol da professionista, sono contento che abbia fatto gol dall'olio perché è un giocatore che secondo me per caratteristiche può fare tre o quattro gol a stagione e sono contento che abbia fatto gol Blanchard perché la speranza è quella che sia uno stimolo in più per venire fuori da un momento iniziale difficile dovuto a una condizione precaria che sta migliorando e che spero possa migliorare sempre di partita in partita e che questo gol gli abbia dato un'ulteriore forza. Parliamo un attimo della partita invece che ci attende, che ci attende, che ci attende a Mare e a Mare e a Mare, una squadra molto forte, adesso tra l'altro Mare e a Mare e a Mare, di aver vinto un partitone a Benerento, è una squadra che sicuramente per quelle che già è una squadra che probabilmente si è rinforzata ancora di più nel mercato di gennaio, e se andrà a affrontarla in che modo, se tu sei tornato con Cittadella a una disposizione di squadra diversa, cioè hai messo i tre e non hai giocato il trequartista, penso di mantenere nei vostri stessi impostazioni, o se ti lavorano su altri? Ma abbiamo giocato a tre senza il trequartista, ma lo avevamo fatto anche a Carpi, solo che a Carpi abbiamo perso e quindi non andava bene quella disposizione, l'abbiamo rimessa lì con interpreti diversi, però ci siamo messi in campo esattamente come a Carpi, però io penso che magari in alcune partite sia una soluzione giusta, anche perché riesci a mettere in difficoltà gli avversari perché occupi tutto il campo, soprattutto quando magari hai delle squadre che ti lasciano pochi sbocchi centrali, dove creano tantissima densità centrale, quindi è più importante andare a lavorare sugli esterni. Il Bari è una squadra che è forte dal punto di vista tecnico, dal punto di vista fisico, perché ha giocatori importanti, è una squadra che ti viene a pressare alto, è una squadra che ha sicuramente la voglia di aggredire l'avversario e accetta a volte anche la parità numerica dietro e quindi quello può essere una cosa da sfruttare. Abbiamo visto anche in altre partite, insomma, insomma, insomma le volettoni, ovviamente il compito tattico, il senso di modulo da scegliere, insomma, alla fine se c'è l'interpretazione giusta, se lo dico in maniera semplicistica, però effettivamente trova il tempo che trova, no? Sì, sì, io l'ho sempre detto, secondo me poi dopo alla fine che tu giochi con un trequartista o due attaccanti, o che giochi con i tre attaccanti aperti, o che giochi con due trequartisti e un attaccante, secondo me non è tanto quello. Oppure quando decidi di giocare a tre dietro, cioè non è il problema di come giochi, perché è il problema di scegliere i giocatori, di scegliere i giocatori che interpretino nella maniera migliore la gara, quindi poi dopo è normale che posizionandoti in campo in una certa maniera puoi magari mettere in difficoltà gli avversari se giochi in un modo o nell'altro, quello assolutamente sì, però alla base di tutto ci deve essere l'interpretazione singola. Parlando di scelte che lei ha fatto, ne ha fatto una tecnica, cioè il fatto di inserire Romagna dal primo minuto, ragazzo giovane, una gara importante anche sotto l'aspetto proprio mentale, un momento importante per il Brescia, mi sembra che gli ha fatto una buona cosa. Sì, ma sotto questo punto di vista io Romagna lo conoscevo come giocatore perché ho avuto la possibilità diverse volte di vederlo e quindi dal punto di vista tecnico-tattico ho sempre saputo che lui poteva comunque interpretare bene le situazioni di gioco. è normale che era una partita difficile ma allo stesso tempo avevo anche il pensiero di dover cambiare qualcosa ma non tanto dal punto di vista tecnico quanto dal punto di vista anche mentale e fisico perché giocatori come Calabresi e Hunters che hanno giocato tantissimo che sono giocatori importanti per noi subiscono tanto i momenti negativi perché sono dei perfezionisti perché hanno voglia di allenarsi sempre a 2.000 perché non accettano le sconfitte quindi avevo pensato che per uno di loro potesse essere giusto dargli anche un turno di riposo più che altro per una questione anche mentale per fargli perdere per fargli togliere un po dalle spalle quel peso che loro si sentono addosso. Purtroppo sì è una perdita importante per noi Giampiero perché poi è un ragazzo che ci dà ci dà equilibrio in campo è un ragazzo che nei momenti di difficoltà riesce sempre a tenerti i palloni quelli che scottano a portare via qualche pallone importante all'avversario e quindi è una perdita importante anche perché con le sue caratteristiche non abbiamo un sostituto con le sue caratteristiche questo è chiaro e quindi logicamente perdiamo sia dal punto di vista di personalità e anche proprio dal punto di vista tecnico tattico in campo. No ma non è non è una questione solo di dinamicità è una questione che in quella posizione in quella zona di campo la cosa che ci sta dando e che ci ha dato Pinzi è di sapere interpretare le due fasi sia quella di possesso che quella di non possesso. Stefano quel ruolo lì non lo ha non l'ho mai fatto io penso che nella fase di possesso potrebbe essere sicuramente un giocatore che ti può dare qualcosa perché perché comunque ha qualità bisogno di gioco e quindi assolutamente sì quello che mi lascia un po pensare a volte è la fase di non possesso e siccome nella fase di non possesso abbiamo bisogno di gente che vada ad aggredire l'avversario per caratteristiche Stefano non è che è uno che vada ad aggredire l'avversario e quindi logicamente il dubbio può essere legato a questa cosa. Tornando un attimo a Pinzi per rifiudere l'ambito dell'infortuno forse dà fastidio anche il fatto che come ricordavo tu in conferenza stava iniziando Il problema la preoccupazione è quella perché poi se hai quei 15 giorni di infortunio che non ti permettono di allenarti Gian Piero non è più e lo dico perché non è un demerito anzi però non è più un ragazzino che sta fermo 15 giorni e poi nel giro di 3-4 allenamenti riesce a ritrovare una condizione importante. Adesso ci eravamo riusciti stava crescendo anche lui, aveva già fatto due ottime partite, era migliorato nella condizione perché un giocatore della sua età più si allena e più tiene alta la condizione. Il grande merito che ha lui è quello di essere un guerriero uno che non accetta la sconfitta, uno che mette in campo tanto e quindi riusciva a sopperire magari a una condizione precaria con questo. Adesso stavamo riuscendo a riportarlo ai livelli del girone d'andata e questo stop non ci voleva proprio. C'è qualcuno che sai che dopo la partita di oggi ha avuto qualche problema? C'è rientro Andoi quindi a parte di questo stato di lungo, di lungo a data e vinsi, c'è qualcun altro? No, 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 non c'è nessun altro. Bisogli insomma? Vabbè loro sono... Minelli è vostro? Minelli... Io ho talmente tanta fiducia in Minelli che per me non è un problema e quindi non gliene parlo perché per me anche se sente qualcosa è sempre comunque un portiere importante e quindi non può giocare e non c'è nessun problema, l'ha dimostrato. Non ci deve pensare. Deve giocare e basta. È vero che si guarda una parte della volta, domenica prossima c'è il Verona, sai già che ti infilizzano quest'anno prossima e sai che c'è Caracciolo che è in fila ed è rimasto in fila. Non pensi tu alla parte successiva? Penso tanto a quella che deve andare a affrontare. Non ci ho pensato sul 4-1 col Cittadella, figuriamoci se ci penso adesso che devo ancora fare 90 minuti a Bari. Sul 4-1 col Cittadella continuavo ancora a pensare alla stessa identica partita. Per me adesso è importante pensare alla partita di domani, è importante pensare a quali giocatori utilizzare. Oggi sicuramente farò degli esperimenti ma che non saranno sicuramente quelli poi decisivi, ma ho bisogno di vedere due o tre giocatori come mi interpretano alcune situazioni e poi domani prenderò la decisione su chi far giocare. Che ci ha portato via tanto dal punto di vista mentale e energetico è stata quella con il Vicenza, poi siamo andati a giocare con l'Entella e c'erano 5-6 giocatori che erano... e io dopo la partita mi feci una domanda chiedendo se non avessi fatto giocare Pinzi o Caraccio dopo il gol che ha fatto con il Vicenza e tutto così, cosa mi avreste detto voi? Eh che avreste sbagliato, quindi non c'è mai una spiegazione. Anche perché il giocatore non gli dice mai di no? No, i giocatori giustamente non ti dicono mai di no, perché tutti i giocatori hanno voglia di giocare e poi il giocatore pensa di aver recuperato e quindi pensa di poter fare una partita ancora al top e non è sempre detto, quindi per me è importante veramente oggi oggi per me è importante nell'allenamento che faremo capire chi sta bene e chi sta meno bene. Come ho già detto cercherò di vedere qualche giocatore così e poi domani deciderò come giocare e soprattutto con chi giocare. Sì, 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 sì.